Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Fortnite per un nuovo video Oggi ragazzuoli sono uscite le sfide della settimana 2 stagione 5 Ho già fatto un video inerente alla prima sfida che siamo andati a completare Che è quella cerca tra un oasi, un'arcata di pietra e dinosauri Vi invito ad andarla a vedere Oggi facciamo invece quella dei canestri Appunto qua metti a segno un canestro in diversi canestri Sono 5, ho qua la mappa sulla destra Vi porto insieme a me a fare 5 canestri Eccoci qua ragazzuoli Primo ovviamente doverosissimo a spiagge snob Lui se ne sta andando probabilmente a fare un canestro ad aprire Io me ne fa, mi sto un po' per cavoli miei Mi prendo alcune cose, mi luto bene e poi andiamo successivamente a fare il canestro Eccolo qua, seccato Ciao zio E può andare finalmente lebron a fare il canestro Attenzione La prova da tre Non va più di lontano Cazzo è difficile invece Arriga Boni È difficilissimo Mannaggia, mannaggia E cazzo Attenzione la prova ancora Non va Più vicino Da lontanissimo C'è affezionale La mette dentro Ok raga Purtroppo la safe Dove andare qua Il prossimo canestro ad andare a fare lì Non voglio lutare più di tanto Effettivamente Cioè no Si è messi a merdissima Però va bene lo stesso Eccoci qua ragazzuoli Nel prossimo campo da calcio Trovare un medikit sarebbe estremamente gradito Devo essere sincero E sono sicuro che qualcosa dovremmo riuscire a rimediare Da queste parti Magari qualche benda Spero Allora ci mettiamo qua Come al solito al centro Palla da basket E vai Epp No quasi Ma ci siamo Pressoché la mira è quella Dai Mannaggia Ok mettiamo un po' più lì indietro È difficile Che cazzo Dai Ciaff Eccolo qua Secondo canestro Andato Ok vi aggiorno sulla situazione Abbiamo trovato delle bende Un altro scudino E beh Direi che non siamo messi per niente male Anzi Direi che ci siamo messi molto bene Eh ovviamente di chi le ho fatte poche Perché sono qui per fare la missione Ce ne andiamo a questo punto A boschetto bisunto Ho già messo il marker Eccoci qua ragazzuoli A boschetto bisunto Tra l'altro là c'è anche un aero drop E quindi lo andremo sicuramente a prendere Ma prima Andiamo a fare canestro Perché è la cosa Più importante in questo caso Allora Scavalchiamo Ci mettiamo qua Prendi la palla E vai Epp Mannaggia quasi Vai Boom E siamo a tre ragazzuoli Io direi che tre in una partita è andato molto bene Vorrei farvi notare raga Che comunque Ah chiude a pinnacoli Quindi possiamo andare a prendere Il penultimo a pinnacoli pendenti Dovrebbe stare da queste parti Comunque io mi vado ad aprire questo Vediamo un po' che cosa troviamo dentro Oh my god Allora Boni fermi tutti Dobbiamo capire effettivamente cosa Il da farsi Vabbè Mi spiace Mi dispiace No facciamo così Meglio Allora Ok vai Che siamo 17 Qua si potrebbe vincere la partita Allora ragazzuoli Purtroppo con la safe Non potevo più andare a fare altri canestri Quindi ho deciso di fare una nuova partita E andare qua dietro a corso commercio Perché ci sono due campi da basket Per completare appunto la nostra missione Uno è qua E l'altro è direttamente a corso commercio Quindi ce ne andiamo a fare i due canestri E concludiamo con questa missione Eccolo No vabbè non lo Buono Se cado Eccolo qua Ragazzuoli il canestro Ci buttiamo qua Epp No Più lontani Ragazzi non ci prendo È più forte di me Ok mettiamoci Vai Epp Sei Perfetto Quattro Dobbiamo entrare in safe a corso Ci dobbiamo sistemare velocemente un attimo Per fare cosa Intanto Qui c'è una trappola E volevo prenderla Faccio due materiali proprio di numero C'è un medic di là Che vado a prendere Ah no c'è qualcuno Mi sa Veloce che ho visto Sono sicuro che c'è qualcuno Finita La missione Perfetto Adesso Ragazzuoli Penso che per questo video Posta tranquillamente essere tutto Vi ringrazio tantissimo per la visione Vi ricordo di lasciare mi piace Se il video è piaciuto Iscrivetevi Al canale Se avete fatto di condividere il video Per farmi scena per se Mi raccomando Passate in tutti Il link in descrizione Facebook, Instagram e Telegram Ragazzuoli tra poco Un nuovo video Per una nuova sfida Della settimana 2 Ragazzuoli Mi raccomando Ma il mi piace Ciao a tutti ragazzi